La partenza, il distacco, la fuga, l'esodo, l'amore, il dolore, la speranza, la voglia di ribellione, emozioni ed esperienze di vita raccontate sul palco del Teatro Rosso di San Secondo stasera alle 21 da Aldo Rapè con gli allievi attori del Laboratorio Teatrale Camper durante lo spettacolo evento La Pace. Indaghiamo sui fenomeni della guerra e della pace, lo facciamo con le parole e contesti sacri come Aristofane, con autori Eschilo, Goldoni e tutto tratto da loro, noi l'abbiamo solo assemblato. Nella presentazione abbiamo detto che non vogliamo dare delle risposte rispetto al tema, sicuramente ci poniamo delle domande. Quella più grossa è la vicenda umana che c'è dietro ogni guerra e quindi dietro ogni mancanza di pace. Quest'anno mi preme dire, al di là del momento storico che stiamo vivendo, la cosa più bella è il tema multiculturale del nostro laboratorio. Per più di quattro mesi con ragazzi che abbiamo ragazzi arabi, ragazzi pakistani, ragazzi nigeriani, oltre ai nostri ragazzi di Caltain Setta, attori di Enna, che si sono uniti e per quattro mesi abbiamo riflettuto insieme sulla tematica, con poesie, con improvvisazioni. Io ho tratto anche delle cose da documentari che ho visto sulla tematica, quindi ci sono un sacco di citazioni e ci sono anche delle cose originali scritte proprio dagli allievi attori. In una parte del laboratorio abbiamo fatto delle improvvisazioni proprio di scrittura. Sono uscite delle cose molto interessanti sulla ricerca di una quotidianità perduta, del sacro perduto nel quotidiano. Su questo abbiamo fatto proprio dei lavori specifici. è un lavoro che è vario, non solo multiculturale ma anche multidisciplinare. A parte che penso che un attore debba essere formato a 360 gradi e non solo sulla parola. Noi la usiamo per la prima volta molto quest'anno la parola. Però sì, sono d'accordo. Ci sono anche delle cose visive particolari. Insomma è uno spettacolo completo. Poi ahimè la tematica è quanto mai attuale. Ci tengo a dire che parte del ricavato va alla cooperativa Etnos per l'attività di accoglienza che stanno facendo con le donne ucraine, con la casa di Jose. Quindi ci saranno anche una parte di loro con noi. Grazie. Grazie.